Ciao ragazzi sono Bluefire, benvenuti in questo review di questa modalità di gioco di Minecraft Stiamo provando così, giusto per provare, SkyGrid E farò un breve test di questa mappa E in poche parole non voglio creare un vero e proprio gameplay Però mi sembra divertente testare questa modalità di gioco E quindi... Ho ho, admin shop, vediamo come si entra solo Ho 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 Ci penso io magari, no vi faccio leggere almeno Sono nel server MC, no Ehm, SkyBlock Quindi, sì, le regole le sappiamo, in realtà io le so Protezione, sì, vabbè, ditemi solo come si entra che non mi ricordo Set on, won't play, TPA, forse No, begin, ok E se tornare indietro spawn, quindi Begin E voilà 3, 2, 1 Very strange place Ho anche un effetto strano Ora Come sopravvivere Penso che dobbiamo prendere subito il blocco sopra di noi Ecco, l'ho mancato, giusto per precisare Ci serve sicuro un po' di blocchi ora Se no non posso sopravvivere Wow Ma perdo un sacco di vita oltretutto Posso già fare tipo una crafting table O potrei tenere gli stick e trovare una crafting table e rubarla Il trucchi di questo gioco forse è saltare e raggiungere l'acqua Allora, la mia idea adesso è Prendere questo Sì Sì Oh Morirò il più presto, lo so già E così abbiamo legno per una crafting table Per due stick E Se andiamo così Che furbo che sono Wow Vabbè Morirò il più presto, sicuro Dov'è l'acqua? Devo avvicinarmi all'acqua in ogni caso Della clay Non mi dispiace Sì Bellissimo La lana è fantastica Così posso fare il letto Se mai farò il letto No, mi cadono pure i blocchi È bluttissima sta cosa Ho visto dell'altro legno e non me lo voglio far perdere No Sono sopravvissuto per miracolo, tipo Wow, 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 wow Wow Gravel Dammi un blocco Sì Sabbia Non casino sta modalità di gioco, ragazzi No, no, non questa Non questa Non questa cosa Oh Allora, non posso piazzare la sabbia perché Se non muoio La distruggiamo sta cosa a sto punto Ci potete giocare tutti voi Penso anche in gruppo Proverò a allontanarmi Sì, ha funzionato Però io sono già quasi in fondo Però è buono questo posto perché almeno posso risalire La zucca ci serve No, non ci serve per ora Il casino sarà quando spawneranno i mob No Ma è difficilissimo Prendiamoci il fungo Fungo, vieni con me Usiamo quest'acqua Scensore Grande acqua E Ok No, 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 no E così si morì per la prima volta in Skyblock Però io potevo settare la home Tipo qua Sì Set Home Giusto Home set Sì, vado giù Tipo cado Home No, non ce la fa in tempo Però se io me ne vado tipo Wow Wow Home Tornerò là ovviamente Vorrei vedere ora di interessante Se ci sono Se trovo dei mob Ma non trovo niente di interessante Non voglio fare un vero e proprio gameplay Quindi questa La review di questa mod Di questa modalità di gioco è finita Se volete che Inizi un gameplay In gruppo Ditemelo Non giocherò mai Da solo una cosa del genere È veramente inquietante Nonché difficoltoso Non capisco però Dove si trovano i mob Quindi non mi interessa più di tanto A dire la verità Però è bella da far vedere Una cosa del genere Un saluto a tutti Ci vediamo Oh, uno spawner di maiale Meloni Legno Andiamo solo allo spawner di maiale Non pensavo Mettessero anche gli spawner Comunque va bene Questa modalità di gioco Mi sembra abbastanza bella Per chi fosse Un pazzo scatenato E da qui Da Bluefire è tutto E ciao chat Bye bye Beh lo so Finire i video salutando in chat Bye 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 Ciao ragazzi Sono tornato E mi hanno teletrasportato In questo posto Penso che abbiano creato Una bellissima base E Questo Questo Punto di skyblock Li ringrazio per avermi Teletrasportato qua E gli dico che possono vedermi E You can't see Me On Bluefire TV YouTube Ok Potete vedermi Lassù E io qua vi do Do una sbirciata A quello che avete combinato Settiamo la casa Set Home Ok Così se muoio Torno qua Epicissimo Guardate che Che sbatti Hanno fatto Per creare una cosa simile In questo punto Di sky grid È incredibile Cioè io ragazzi Comunque vi sto facendo vedere Queste cose Private Sì Helper Ok È bellissimo Comunque Cioè ragazzi Complimenti per l'impegno Vi saluterei Quasi tutti A dire la verità Ash Sei un grande E Gli manca solo Wow ma è incredibile Comunque È bellissimo È un posto Fantastico Cioè non so Quanti game player Di youtube Abbiano fatto vedere Una cosa simile E cioè Hanno creato Hanno allargato Tantissimo Poi Cioè Hanno decorato Il pavimento Addirittura Wow Vorrei fare Un applauso A tutti E Stavolta Il video Termina sul serio Qua Perché io Non ho appunto Intenzione Di iniziare Un gameplay In un posto simile Qui spawneranno Veramente i maiali O gli zombie I creaker I mostri E Boh Un grossissimo Applauso A questi player Che stanno Veramente facendo Un ottimo lavoro E Dove scappi Dove scappi Voglio salutarti Questa è una cesta Di lavoro Immagino Sì Ciao pollo E Da Bluefire È tutto Se vi piace Il server Potete giocare Anche voi Sono molto gentili Vi trasporteranno Molto volentieri E Ciao Navi Can 23 Ok Bye bye Sembri proprio una rana Bye